In occasione delle dieci candeline della cooperativa Impronte abbiamo intervistato Sara Lunghi, membro della cooperativa, un decimo compleanno ricco di aspettative anche rispetto all'andamento dei lavori nel cantiere di Chireco, il parco per l'innovazione sociale ed ambientale di Ravenna. Per noi significa tanto questo traguardo, sono dieci anni che lavoriamo nel risparmio energetico, comunque nell'innovazione, quello che poteva essere l'innovazione dalle sue varie forme e finalmente quest'anno, oltre dieci anni, stiamo costruendo Chireco, quindi il cantiere è partito, procede a grandi passi, quindi un doppio traguardo. Allora, oltre ai nostri impegni quotidiani, lanciamo oggi la campagna per Milumino di Meno 2016, in particolare Fai la tua parte, nel senso che ognuno di noi è importante che si impegni per quello che possa riguardare i vari obiettivi e quindi noi intendiamo quest'anno promuovere una serie di iniziative di manifestazioni che ci porteranno a Milumino di Meno, che avranno però un progetto concreto e misurabile, cioè faremo una serie di interventi in una scuola che stiamo andando a identificare, rivolto ovviamente al risparmio energetico, visto comunque la tematica, ovviamente quella principale, legata anche alle tematiche internazionali.